buongiorno a tutti e bentornati dopo il supporto all'autodromo per la formula 1 e le meritate vacanze siamo purtroppo tornati in ufficio e partiamo subito a bomba per oggi abbiamo quelli di ambient da noi in ufficio a treviolo quindi adesso da presezzo andiamo a treviolo e vediamo che cosa stiamo combinando con loro let's go eccoci arrivati a treviolo con davide e leonardo di ambient sette direttamente da che paese non falcone è stato abbastanza veloce però è stato veloce per arrivare qua no buono buono e starete qua fino a giovedì mattina praticamente stiamo vedendo un sacco di progetti condivisi tra cui il help desk il service desk centralizzato in outsourcing che più o meno racconta un po di che cosa si occuperà si occuperà di seguire le aziende si occuperà di assistenza remota alle aziende lo faremo in modo centralizzato con un team di tecnici super specializzati in modo da riuscire a mettere assieme le forze per poter dare un servizio ancora migliore quindi praticamente invece di avere hk style ambient sette e pinco pallino eccetera eccetera e tutti gli altri partner che arriveranno per la gestione ognuno a casa sua se riusciamo a centralizzare il tutto con una professionalità stra avanzata e programmi di gestione monitoraggio eccetera eccetera è tutto un altro livello insomma in modo tale che possiamo dare anche un report ai clienti esatto ed essere più efficienti e è una cosa che effettivamente un po c'è venuta in mente a noi ma un po c'erano chiesta anche i partner direttamente quindi quindi vi terremo aggiornati anche riguardo a questo super aggiornati